aria terra fuoco facciamo l'esperimento su quello più pericoloso che è fuoco momento pericoloso assolutamente non solo non mi muovete ma dovete fare un passettino indietro guardi verso l'oceano ecco qua c'è 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 la statua della libertà con spedito l'ideatore di mister pancia animazioni oggi festeciate 30 anni qui in piazza libertà sì 30 anni fa avevo capelli lunghi biondi occhi azzurri ed ero bello mi auguro di esserlo anche ora da allora è passata di acqua sotto i ponti abbiamo divertito immaginato è fatto essere felici migliaia di bambini quelli che allora erano bambini qui abbiamo fatto sognare adesso sono diventati nostri animatori l'augurio è che faccio e che possano continuare a sognare ancora sempre e che la passione ci porti a un grande divertimento a trovarci tutti quanti qui ancora fra 30 anni senti tutte le emozioni che hai ricevuto questi anni le emozioni sono state tantissime ovviamente sono state quelle che ci hanno dato sempre la spinta per continuare anche in momenti difficili non ultimi quelli lì vissuti nel 2020 ovviamente è il nostro è un è una professione quella cui c'era siamo stati penalizzati però abbiamo avuto la forza grazie appunto al desiderio di continuare a far sognare tanti bimbi ancora di andare avanti senti tante persone qui tante persone neanche mascherate è un bel gruppo direi è un bel gruppo la maschera non è nient'altro che un momento in cui una persona si sveste dai propri panni e si diverte gioisce liberamente prima di salutarvi vi chiedo se questo spettacolo un poco vi è piaciuto solo un applauso grazie e allora se vi è piaciuto molto un applauso è il mio finello preferito anche qui i vostri ragazzi anche qui i vostri ragazzi stanno divertendo molto io sono un po emozionato vi ringrazio per la vostra presenza qui volevo ricordarvi che 30 anni fa quando nasceva mister panci io avevo i capelli biondi gli occhi azzurri ero il bello aiuto e allora ne è passata tanta di acqua sotto i ponti quelli che erano i bambini ai quali abbiamo fatto segnare immaginare di essere felici adesso sono i nostri animatori facciamo le feste a quelle mamme che erano animatrici adesso facciamo le feste a loro figli e l'augurio che vi faccio e che vi faccio di ritrovarsi qui a terra tra 30 anni con la stessa passione con gli stessi occhi brillanti e continuare a ridere ad essere felici altri migliaia di bambini una buona salute e grazie a tutti ciao ci vediamo tra 30 anni grazie per averci permesso di essere grandi bambini la vostra dedizione e il vostro amore amore su questa biblioteca è un luogo speciale è un onore per parte di questa grande famiglia 1994-2024 ci sarà un giorno in cui ci ricontreremo ancora ciao e grazie buona vita a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti